Musica Bentornati con le consigliate previsioni a cura di Meteo One. Il vasto campo di alta pressione dal nord Europa comincia a spostare i suoi massimi valori sempre più verso sud, iniziando a lambire la nostra penisola. Ciò permetterà alle correnti umide atlantiche di ritirarsi verso ovest e al girilo siberiano di regredire verso est. Difatti le condizioni atmosferiche sull'Italia miglioreranno ovunque a partire dalla giornata odierna e le temperature risulteranno in aumento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 15 febbraio. Freddo al primo mattino nelle aree interne puglisi e nelle vallate lucane, con cieli sereni su tutti i settori. I venti da nord terranno lontane le nubi per tutta la giornata, favorendo ampi spazi di sereno su tutti i cieli puglisi e lucani fino a tardasera. Ora, per quanto riguarda le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, rimarranno stazionali nei valori minimi. Il leggero aumento, invece, nei valori massimi. I venti nord-occidentali soffieranno con moderata intensità lungo tutte le coste adriatiche puglisi, più deboli altrove. Per quanto riguarda i mari, poco mosso l'Adriatico e l'Oionio, mosso il Canal d'Otranto. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale, che ci mostra lo splendore dell'arcobalino che maestuso si staglia all'orizzonte sul mare di Rudi Garganico. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.